Siamo nei terreni della Snam, alle nostre spalle, nella frazione della Cicogna con il sindaco di Terra Nuova Sergio Chieni. Davanti a noi una coltivazione, l'orto in rete. Tanti bambini che stanno visitando questo spazio. Insieme alla cooperativa Beta c'è stato un bel progetto di far vivere anche rispettando l'ambiente, questa natura meravigliosa delle nostre zone. Io ringrazio la centrale Snam e Beta 2 che hanno promosso questa iniziativa perché oltre a suscitare ovviamente l'interesse delle scuole, perché comunque è uno spazio bello all'aperto in cui viene fatta della coltivazione anche in maniera significativa, aggiunge anche un elemento di valore in più perché c'è l'inserimento sociale di soggetti svantaggiati, ossia l'opportunità per persone che altrimenti avrebbero un po' di difficoltà a inserirsi nel mondo lavorativo di esercitare un'attività. Quindi di imparare sostanzialmente un mestiere e dall'altro lato di avere anche un reddito che gli permette di essere autonomi. Questo è un progetto che ha tre valori essenziali. Il primo appunto è il recupero di un terreno incolto che Snam aveva acquistato e chi era qui. L'altro valore appunto è quello del lavoro, il lavoro sociale, quindi la rintroduzione nel mondo del lavoro di persone cosiddette svantaggiate. E l'altro è che questi prodotti che vengono coltivati da noi vengono rintrodotti nelle menze gestite da noi sotto un marchio che si chiama Tutti i Giorni, ad esempio per l'Unione dei Tre Colli. E quindi in qualche modo questi prodotti che vengono coltivati da ragazzi svantaggiati arrivano nelle tavole dei bambini.